Amadio, presenza da titolare finalmente è anche una bella prestazione della squadra, ma anche in particolare tua. Sì, diciamo che abbiamo fatto un'ottima partita e forse il risultato ci sta pure un po' stretto. Sono contento per la mia prestazione e per quella della squadra che è quello che conta. Finalmente sto bene, ho ancora un po' di fastidio dovuto alla cicatrice, però ci convivo e niente, vado avanti. Io sono contento per la mia prestazione, però a centrocampo siamo quattro, siamo tutti bravi. Ognuno di noi può giocare indifferentemente, è normale che ognuno di noi ha l'ambizione di partire a titolare. Però c'è una concorrenza sana, io spero di giocare, farò di tutto e poi vediamo le scelte del mister. È una categoria importante, sicuramente ci sono ottimi giocatori che hanno giocato, però mi trovo bene. La squadra nostra è forte, sono giocatori che sono importanti e quindi ce la giochiamo alla grande. La Carradese finora non ha mai perso, quindi è una squadra importante. Sappiamo che fa questa categoria da diversi anni e noi comunque in casa dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco e giocarcela con tutti. davanti hanno poi dei giocatori importanti come Merini e vedremo un settimana col mister come fermarli.